Un braccio di ferro oppone una chiesa protestante sudafricana e un pastore gay. I vertici della chiesa riformata olandese hanno aperto un'inchiesta per appurare se avessi una relazione omosessuale e terminata l'indagine hanno suggerito alla mia comunità di sospendermi. Mi hanno anche detto che la mia ordinazione sarebbe stata annullata nel caso non avessi rispettato il celibato. Ho deciso allora di ricorrere contro quella sentenza e per finire l'Assemblea Generale della Chiesa mi ha reintegrato nelle mie funzioni pastorali.